ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come l'alieno di avanti un altro non è più nel programma da un po ecco la triste scoperta sulla sua sostituzione avanti un altro è uno dei programmi più amati della fascia preserale mediaset grazie non solo alla presenza di paolo bonolis e luca laurenti ma anche della foresta di personaggi scelti per il quiz game infatti dei caratteristi molto buffi riescono sempre a strappare un sorriso al pubblico da casa tra di loro per molto tempo uno dei preferiti è stato l'alieno tuttavia è ormai da molto tempo che non si vede nel programma e non sono chiari i motivi che hanno portato alla sua uscita di scena per molto tempo i telespettatori si sono chiesti sul web cosa fosse successo e se la decisione fosse stata presa dal personaggio oppure dallo stesso bonolis oltre a questo nel programma possiamo trovare l'uomo dei rebus miss claudia la bonas il bonus lo iettatore il malato la buona sorte beautiful lo scienziato matto l'indignato oltre che la dottoressa lo scienziato pazzo e l'uomo dei rebus scopriamo perché l'alieno non fa più parte del cast il motivo è veramente molto triste ecco perché non c'è più l'alieno ad aventi un altro pochi personaggi sono entrati nel cuore dei telespettatori come è accaduto per l'alieno di avanti un altro che però ormai da tempo è completamente scomparso dai radar se vi state chiedendo che fine ha fatto l'attore siete nel posto giusto infatti è andato via dal quiz game da un giorno all'altro lasciando un vuoto nel pubblico da casa il nome dell'uomo è leonardo tricarico e tutti sanno che è alto solamente un metro e 37 in trasmissione faceva la parte dell'aliene facendo delle domande ai telespettatori con la sua lingua incomprensibile i suoi capelli scompigliati e la sua pettinatura eccentrica oltre al dito luminoso stile e ti erano veramente molto apprezzati mediaset non ha mai palesato i reali motivi che hanno spinto a mandare via l'uomo l'ipotesi più probabile sembra essere questa leonardo tricarico non tornerà mai più a far parte della trasmissione avanti un altro infatti è sparito completamente dalla scena televisiva e ha persino smesso di utilizzare i social network senza dare nessuna spiegazione ai suoi follower tuttavia pur essendo davvero molto simpatico l'ipotesi più probabile della sua uscita di scena sembra essere questa l'alieno sarebbe stato mandato via perché ormai era troppo ripetitivo e monotono dunque la produzione avrebbe preferito dare più spazio ad altri personaggi secondo altre persone semplicemente l'attore avrebbe preferito allontanarsi dal piccolo schermo e dedicarsi ad altri progetti grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video